Oggi recensisco l'album My Beautiful Dark Twisted Fantasy di Kanye West del 2010 su richiesta fatta su Patreon da Davide Mazzeo. Metti un like a questo video già in anticipo, iscriviti a questo canale, richiedimi una recensione abbonandoti a Patreon in Tier 2 per almeno tre mesi e poi seguimi in live sul canale Viola dal lunedì al sabato dalle 14 alle 16. Uno dei dischi più importanti della storia del rap e del rap almeno degli ultimi 20 anni, un po' come To Pimp a Butterfly condivide delle similitudini ma per altri versi si mantiene un disco profondamente differente, diverso, ma l'importanza di questo disco indubbiamente la si può accomunare a quella dell'album di Kendrick Lamar. È un disco forse più che rivoluzionario, è un disco cruciale, importantissimo, non soltanto per le sorti del rap ma proprio per la vita di Kanye West che nel 2010 o forse meglio dire nel 2009 prima dell'uscita di questo album e come preludio a tutto quello che poi sarà la gestazione di questo disco, peraltro molto lunga, sono sei mesi in studio in auto isolamento ma ne parleremo tra poco, comportano. Questo è un album che va contestualizzato con la vita di Kanye Kanye West nel 2009. Kanye West intanto viene da una pubblicazione molto particolare come 808s and Heartbreaks che è un disco di rottura inaspettato, è l'album che non avrebbe dovuto pubblicare ma in teoria si sarebbe dovuti andare verso la quarta installazione del suo progetto graduation ma in realtà il divorzio e la scomparsa di sua madre Donda lo gettano in uno stato depressivo piuttosto palese e non si sente di fare un disco in continuazione appunto con quello che aveva fatto inizialmente. Quindi ecco che arriva un album rarefatto, un album lento, un album tra l'altro fortemente innovativo per l'utilizzo dell'autotune che poi vedremo diventerà lo staple della trap ma è un disco soprattutto molto dimesso, molto lento, di batterie essenziali, suoni essenziali la 808, quella 808 che per esempio il mondo del rock si rifiuta di adottare e di utilizzare e che in quel momento il mondo del rap non utilizzava più perché era il suono dell'old school dell'hip hop e lui ha un'intuizione pazzesca che poi comporterà in un certo senso anche l'evoluzione del rap stesso dentro la trap nella scena di Atlanta. Allora dopo questo disco quindi un disco sicuramente che aveva spaccato in due anche la stessa fanbase non solo la critica per quanto per me sia un disco di altissima qualità. Kanye West è protagonista di un episodio che è cruciale perché è l'episodio che lo stesso Kanye West definisce il crocevia della sua vita, il turning point il momento in cui tutto cambia e probabilmente a paragone con quello che è il Kanye West di oggi probabilmente questo è un episodio anche piccolo ma non è piccolo l'interesse che il mondo mediatico e social statunitense non solo va a conferire a questo episodio. VMAs a Los Angeles nel momento della premiazione di Taylor Swift come miglior video dell'anno un Kanye West che fino a quel momento in tutti i video, in tutte le immagini del red carpet fino alla green room passando per il backstage dei VMAs viene visto sorseggiare, abbeverarsi trincare da una bottiglia, da una boccia di Hennessy ubriaco, non ubriaco, non si sa se la colpa sia dell'alcol lui ha sempre sostenuto che questa cosa non dipendeva non è dipesa in nessuna maniera dall'alcol sale sul palco, interrompe di fatto l'acceptance speech di Taylor Swift scagliandosi contro la decisione tra l'altro del pubblico in questo caso di preferire il video di Taylor Swift a quello di Beyoncé considerato da lui uno dei più bei video di sempre il tutto nello stupore del pubblico, dei giornalisti, dei cronisti, della gente a casa e della stessa Beyoncé che non sa come reagire a questo tipo di imbarazzo questo episodio innescherà una shitstorm e un moto social e mediatico di una violenza inaudita ai danni di Kanye West che da idolo beniamino un po' sulle orme del suo padre reputativo Jay-Z passa dall'essere il golden boy al forse l'uomo più odiato d'America e questo ha un impatto molto forte sulla sua vita la violenza con cui la gente gli augura la morte per esempio lo colpisce in maniera molto profonda e quindi inizia un suo peregrinare dapprima in Giappone poi vive per qualche mese a Roma prima di autoconfinarsi in un esilio per fortuna decidendo di continuare a fare musica dopo aver messo in discussione proprio la stessa solidità del suo progetto lui a un certo punto è in dubbio e dice forse non continuerò proprio fortunatamente decide di continuare ma lo fa con un peso notevolissimo da conferire soprattutto a questo disco che diventa il disco da do or die diventa il disco da dentro o fuori o la va o la spacca ma non solo lui vuole che questo disco spacchi ma lui vuole che questo sia l'apice lui non solo pretende di tornare ma nella sua testa c'è il fatto che anche il suo peggior detrattore anche quello che lo odia maggiormente al mondo debba pensare di questo lavoro una volta finito che sia un lavoro pazzesco indipendentemente dall'odio nei confronti di Kanye West quindi l'ambizione è forte ma lui è un ambizioso e soprattutto ne ha facoltà lui è uno che sa fare un disco così importante e infatti ci riesce si autoconfina si autoesilia a Honolulu nelle Hawaii dove ha una casa e dove di fatto prende degli studi che hanno tre sale e queste tre sale lui le prenota solo per sé nonostante studio B e studio C siano a disposizione perché lui sta lavorando nello studio A lui adotta un metodo molto particolare intanto perché non vuole interferenze non vuole che si sappia che lui e i suoi eventuali collaboratori i suoi eventuali guest del disco stiano lavorando a questo album ma vuole assoluta privacy riservatezza e vuole soprattutto andare a colmare quelle che potrebbero essere le sue difficoltà o lacune durante la lavorazione di questo disco quindi lui cosa organizza? lo studio A principalmente per il suo lavoro per lavorare alla traccia a cui sta lavorando ma studio B e studio C hanno entrambi sessioni già aperte su altre due tracce diverse in modo che se dovesse avere un blocco sulla A può andare nello studio B e lavorare alla canzone B oppure andare nello studio C e lavorare alla canzone C rompendo di fatto un eventuale blocco dello scrittore le session di questo disco sono lunghissime dureranno sei mesi ma sono sei mesi ricchissimi anche di racconti e soprattutto di ospiti perché Kanye West che è profondamente insicuro a questo punto della sua carriera decide di avvalersi dei consigli dell'infinito numero non solo di collaboratori di questo disco i featuring saranno tanti e notevoli ma anche dei suoi più fidati amici rapper non rapper ma artisti collaboratori o non collaboratori a cui lui fa sentire tutto il processo creativo condivide con loro per avere un parere costante proprio per evitare che possa essere lui il problema di se stesso la causa dei suoi stessi mali e sono diverse le cose che lui organizza intanto una sorta di decalogo disposto a scacchiera con tutte le regole da seguire dentro lo studio ma lui impone anche delle regole che non sono scritte sui bigliettini per esempio tutti i lavoratori tecnici dello studio quindi dal sound engineer ai microfonisti chiunque abbia un ruolo tecnico all'interno dello studio e quindi non sia artista deve indossare un completo nero la camicia bianca e la cravatta eleganti perché perché chiunque entri all'interno di questo studio deve avere un'impressione di un qualcosa di importante che si stia consumando soprattutto di eleganza non dare l'idea che l'artista sia uno sciatto e che quindi ci sia un'ufficialità all'interno del processo artistico e creativo di questo disco e poi la scelta dei collaboratori che sicuramente è particolare perché si avvale per esempio di Elton John Elton John viene criticato dallo scetticismo dei suoi collaboratori che gli dicono ma non è hip hop e lui risponde e in questo ha già una visione complessiva organica di quello che sarà My Beautiful Dark Twisted Fantasy io non sto facendo un disco hip hop questo non è hip hop questa è musica ed ecco che questo disco in effetti è un disco di musica non è un disco di rap non è un disco di hip hop sì il genere è ascrivibile ma questo è assolutamente un album di musica peraltro fondamentale secondo me è uno di quei dischi che dentro casa sarebbe carino avere e quindi Elton John non solo partecipa ma lascerà alcuni dei momenti più importanti nella parte centrale del disco e Idem per esempio farà Bon Iver Justin Vernon che partecipa in tre occasioni all'interno di questo disco e sono tutti momenti encomiabili sono momenti altissimi ha un ruolo apicale all'interno di questo album per esempio lo apre con Can We Get Much Higher che è proprio affidato al suo falsetto e tra l'altro è proprio con Bon Iver che effettivamente Kanye West condivide un utilizzo molto creativo dell'autotune entrambi sono due magicians due wizards dell'autotune il disco si apre proprio così con Darkest Fantasy il disco è un album di campioni ma i campioni non sono soltanto un qualcosa di funzionale di strumentale per la costruzione della canzone i campioni avranno un ruolo fondamentale ovvero un ruolo narrativo sceglie soltanto campioni che tematicamente abbiano a che fare con il racconto del disco che si pone come un concept in realtà non concept perché perché da un lato c'è un un'unità tematica una coerenza dall'inizio alla fine ma i protagonisti delle storie sono non meglio identificati sono delle storie come potrebbero esserci in qualsiasi disco con un tema che andremo a vedere essere quello del rapporto con la fama ma c'è molto di più ovviamente con dei personaggi fittizi di fantasia ma in realtà ogni personaggio e soprattutto ogni personaggio anche nei versi nelle strofe dei featuring degli artisti che fanno il featuring all'interno di questo disco che sia Jay-Z che sia Pusha T raccontano Kanye alla perfezione e quindi questo alla fine non è altro che una open letter di Kanye West al mondo dove spiega e lo dice lui stesso come si faccia a chiedere scusa se scusa non lo sai dire perché il tuo ego è molto grande l'ego trip di Kanye West è gigantesco e quindi c'è una parte proprio andremo a vedere più avanti del disco dove lui sta per dire scusa testualmente è la parola che completerebbe la frase e viene interrotto da un ritornello prima che lui possa dirlo perché? perché in quel caso è la musica che viene usata come strumento per chiedere scusa molto più delle parole la musica ed è il modo con cui lui sa dire scusa con uno dei più grandi dischi rap di sempre vi dicevo dei campioni Darkest Fantasy che apre il disco ha un campione di Mike Caulfield di Crysis e non c'è un termine migliore per spiegare l'attualità quello contro cui combatte Kanye West che è proprio la crisi non c'è un modo un miglior titolo per raccontare il Kanye di questo album si paragona a un insegnante che deve motivare i propri studenti ma in questo disco si parla anche di alcol quindi ci sono gli antefatti e infatti il riferimento ai VMAs è abbastanza chiaro arriva Gorgeous con la produzione di Kick Cuddy c'è uno strumentale bellissimo di chitarra il campione è il sample di You Know Me di Enough Light che è un pezzo meraviglioso e qui dentro si parla di ingiustizia sociale del potere dei media ecco questo è un disco effettivamente molto impegnato se lo vogliamo paragonare all'album di Kendrick Lamar ma con delle differenze perché a raccontarlo c'è un personaggio diverso mentre Kendrick Lamar non è un personaggio di rottura ma è un personaggio che unisce è un personaggio amato da questo lato c'è un personaggio che è stato amato e che adesso divide e che ha uno stile di vita sicuramente diverso ha un ego sicuramente diverso eppure la denuncia arriva in questo disco questo è un disco che si occupa fortemente di ingiustizia sociale e lo andremo a vedere appunto in questo pezzo ingiustizia sociale il potere dei media Kanye che sostiene che fondamentalmente dietro la shitstorm legata alla sua interruzione di Taylor Swift ci fosse in realtà una forte una forte componente interaziale non a caso nei tanti commenti sul twitter dell'epoca sul facebook dell'epoca si usava spesso la n-word e quindi non è così campata in aria la sua teoria è chiaro è lui che si autoinfligge una severa punizione è lui causa di se stesso ma quello che lui vuole spiegare è come un evento che assume una risonanza così grande abbia in realtà o avrebbe in realtà una risonanza molto più piccola se poi non ci si mettessero delle sovrastrutture e non ci fosse un gusto un gioco nell'enfatizzare le malefatte in questo caso di un personaggio famoso e ritorno proprio su questo sulla ricerca della fame e sulla ricerca della fama appunto venire dalla fame per poi arrivare alla fama e c'è tanto appunto dell'ingiustizia sociale negli Stati Uniti e c'è una presenza molto importante quella di Ray Kwon nell'ultima strofa della canzone che dice keep it real keep it moving keep grinding non mollare mai questo è un intervento motivazionale che Ray Kwon fa che tra l'altro Ray Kwon partecipa soltanto perché Reza che è coproduttore di alcune tracce di questo disco dopo aver sentito la grandezza di quello a cui sta lavorando effettivamente Kanye West gli dice te lo do io un featuring e chiama Ray Kwon che altrimenti non avrebbe mai partecipato quindi Wu-Tang che chiama Wu-Tang all'interno di questo disco e lascia un marchio indelebile proprio con quella parte di strofa su che cosa si interroga Kanye l'hip hop è solo un eufemismo per una nuova religione dà un ruolo addirittura molto alto all'hip hop perché perché dice che è la musica dell'anima è la soul music degli schiavi ed è quello che manca ai giovani manca una musica dell'anima e poi c'è un'altra frase un altro passaggio molto bello le stesse persone che hanno cercato di blackball me le persone che hanno cercato di affossarmi di distruggermi to blackball me si sono scordati di un paio di cose le mie blackballs sono tanti giochi di parole funambolici ma questo disco ne è pieno è un disco magistrale da un punto di vista di scrittura dove ogni tipo di trick ogni tipo di 360 verbale viene messo in atto arriviamo a power pensate power oltre a essere uno dei traini di questo disco è un pezzo che ha richiesto 5.000 ore per essere completata 5.000 ore di lavoro per un pezzo così importante e anche qui i campioni non sono mai casuali ci sono gli applausi dell'opening sono un sample di afroamerica continent number 6 quindi un brano fortemente radicato nella musica nera ma c'è il più riconoscibile e ovviamente emblematico che è il campione del ritornello ovvero 21st century schizoid man dei king crimson l'originale criticava i politici al potere si occupava effettivamente di power di potere e criticava i politici al potere durante la guerra del vietnam Kanye la fa sua e la utilizza per criticare che cosa il potere e gli stessi principi morali della società moderna della società moderna statunitense critica soprattutto il potere non quello che i potenti hanno ma il potere che il pubblico conferisce alle celebrità il pubblico amando qualcuno gli dà un potere e lo pone in una posizione di responsabilità ma sono dei comuni mortali sono delle persone normali che non vorrebbero neanche avere quel tipo di potere e quindi può essere utilizzato male o può essere utilizzato al loro danno vedi appunto quello che è successo a Kanye West no one man should have all that power nessun uomo dovrebbe avere tutto quel potere ma poi allo stesso tempo lui fa ammissione di ego trip e di consecutivo e relativo power trip perché riesce ad ammettere le sue lacune e soprattutto come lui abbia riempito le sue mancanze proprio riempendo con l'ego è la canzone che Kanye sceglie per tornare alle ribalte musicali dopo quello che succede nel 2009 dopo l'incidente di Taylor Swift lui affida a power un ruolo enorme perché è il primo singolo è il singolo con cui lui ritorna quindi assume un significato o sarebbe il caso di dire assume un potere che è assolutamente emblematico il testo trasuda arroganza ho il potere di rendere la tua vita così eccitante però ancora una volta ci ricorda che questo album parla di fantasia non ce lo dimentichiamo mai my beautiful dark twisted fantasy è il sogno la fantasy quindi sembra più una richiesta di aiuto che non un'auto celebrazione eccoci qua il momento di Elton John All of the Lights si inizia con questo interludio che proprio è Elton John il pianoforte gli regala delle note estruggenti meravigliose che poi diventeranno anche la melodia di All of the Lights la parte proprio della canzone e vi ho già detto appunto dello scetticismo intorno a questa canzone All of the Lights andiamo proprio al brano subito dopo l'interlude le luci sono le luci della ribalta sono le luci dei riflettori sono i flash dei paparazzi e c'è Rihanna che nel suo ritornello invita ad accendere le luci nel ritornello per esporre che cosa le negatività della vita Kanye invece racconta la messa in discussione da parte dell'opinione pubblica in seguito all'episodio di Taylor Swift ma soprattutto a un altro incidente di cui lui già pagò una shitstorm ovvero l'incidente nel quale schiaffeggiò la sua ex compagna e come conseguenza lui crea un personaggio fittizio una storia immaginaria nella quale per poter rivedere sua figlia che dopo aver colpito la sua ormai ex compagna è stata portata via deve accettare le conseguenze vivere rispettosamente nel rispetto delle persone e delle regole questa è una nuova imposizione per Kanye West e così come l'album stesso si prepone di fare Kanye sa che stavolta la risalita sarà completa fino alla vetta non si accontenta semplicemente di tornare a quello che aveva prima Kanye West vuole andare oltre e questo è il disco dell'oltre Kanye definisce my beautiful dark twisted fantasy come un disco di scuse e sono esattamente quelle scuse che lui non riesce a pronunciare qui quella parola sorry che non esce perché arriva il ritornello di Rihanna e interrompe quindi come dicevo prima utilizza la musica per chiedere scusa come metodo alternativo alle parole arriviamo a Monster ed è effettivamente un vero e proprio Monster all'interno di questo disco ma qui il testo è Monster i significati sono Monster è quello che Kanye è diventato per l'opinione pubblica ogni mostro ha ottenuto il suo potere attraverso il successo e la fame quello di cui parlava prima quel potere che gli viene dato che viene conferito dal pubblico e lui dice io vivo nel futuro questa è la sua visione così che il presente diventi il mio passato io non sono nel presente non sono neanche nel mio passato io sono già nel futuro ed è vero quello che fa Kanye West è un'opera di un visionario è sempre stato grandioso da questo punto di vista con tutti i suoi difetti la mia presenza è un regalo baciami il culo dice all'interno di questa canzone che cosa vuol dire cosa significa qui si ritorna all'episodio dei VMAs con Taylor Swift rileggendo i fatti lui sostiene che la sua presenza non richiesta ovviamente sul palco dei VMAs in fondo sia stato un regalo per il pubblico lo è stato per la stampa lo è stato per tutti quelli che su questo argomento si sono di questo argomento si sono nutriti e su questo argomento hanno parlato per ore per ore per ore oltre la stessa portata dell'evento è un argomento di cui parlare all'infinito quindi alla fine forse ditemi anche grazie l'intro parlato di Boniver di Justin Vernon è soprattutto una frase chiave che viene affidata alle liriche di Nicki Minaj grande ospite di questo disco Nicki Minaj che va praticamente per i fatti suoi all'interno di questa di questa canzone e a un certo punto in un pezzo dove è presente il king Jay-Z dice potrei anche essere il re ma osserva la regina mentre conquista watch the queen conquer tant'è che il pubblico ma non solo il pubblico subito anche l'entourage di Kanye West nel momento in cui realizzano credono che possa essere un attacco neanche troppo indiretto a Jay-Z e anche Kanye a un certo punto va a confrontarsi con Nicki Minaj chiedendole se fosse un attacco al buon Jay-Z e lei disse in realtà no non lo è affatto è semplicemente il mio modo di essere è semplicemente conguro con il tono della sua intera strofa e infatti il caso si chiude andiamo a So Appalled per me uno dei brani stand out di questo disco non che ce ne siano di deboli però questo veramente per me rappresenta uno stand out sei minuti di gloria massima musicale e non solo ecco questo è un disco dove forse dovremmo concentrarci molto anche sull'aspetto musicale questo è un disco di grandiosa musicalità e questo è uno stand out molto sottovalutato semplicemente messo in secondo piano dalle runaway dalle power dai pezzi portanti probabilmente e in questo pezzo c'è il gota del rap della storia del periodo Kanye West c'è Jay-Z c'è Pusha T c'è Reza e discutono di che cosa? dello stato del genere tra degli emergenti che vengono definiti degli amateur che non sono neanche degni di pronunciare i loro nomi e Jay-Z che racconta il suo cambio di status perché lui ci è passato prima e in questo caso mai queste parole possono essere accomunabili a quello che sta vivendo Kanye West Jay-Z passa di fatto dal rapper preferito al più odiato considerato sopravvalutato ed ecco che lui pone un interrogativo che chiude la faccenda per sempre meglio essere sottopagati o essere sopravvalutati e qui inferisce un colpo ovviamente alle nuove generazioni fatali David in a New Dress c'è un sample di Will You Love Me Tomorrow di Smokey Robinson e ha a che fare perfettamente questo sample con il tema del brano qui c'è un grande assolo di chitarra di Mike Dean e c'è un enorme featuring di Rick Ross e andiamo a Runway il capolavoro probabilmente di questo disco questo intro leggendario di pianoforte con la nota singola minimalismo la tensione enfatizzata dal reverbero che rende il tutto molto più drammatico prima che poi entri il beat nel pezzo si parla di questa relazione immaginaria in cui Kanye che è l'elemento tossico dei due del rapporto supplica la ragazza di scappare allontanati da me vai via da me io sono veleno io sono tossicità vai via ma ciò nonostante la donna è incapace proprio per attrazione stessa nei confronti di Kanye o del personaggio immaginario che ovviamente rappresenta Kanye è incapace di allontanarsi e non riesce a scappare Pusha T interpreta proprio Kanye West interpreta il narcisista nella relazione accettando che cosa accetta la consapevolezza di esserlo accetta la consapevolezza di essere uno stronzo non vuole redenzione sa che non c'è redenzione sa che quella è la sua natura e poi c'è il dolore dell'abbandono la donna finalmente riesce ad allontanarsi e viene reso alla perfezione dalla chiusura di Kanye che simulando una chitarra e con un'effettistica una saturazione particolare una reverberazione particolare voce e niente a questa lunga coda a questa lunga chiusura che sembra veramente il suono del dolore il suono delle scuse e così come il resto del disco questo brano è un manuale di produzione musicale che andrebbe tramandato veramente a chiunque voglia intraprendere questo come lavoro Hell of a Life c'è la stessa melodia vocale di Iron Man dei Black Sabbath è un brano di dissoluzione morale nella lussuria e nella depravazione però allo stesso tempo il tema di questa canzone sono le porno star ovvero quale migliore esempio quale migliore metafora in realtà reale per la vita di Kanye West e la storia di Kanye West protagoniste venerate nel privato ma condannate in pubblico e questa ipocrisia anzi diciamo che proprio il tema la bandiera dell'ipocrisia viene issata ancora una volta all'interno di questo disco The Blame Game il gioco delle accuse con il ritornello cantato da John Legend e questo sample meraviglioso di Aphex Twin Kanye scopre a sue spese all'interno di questa storia inventata anche questa questa è la parte diciamo delle relazioni che arriva di come la donna con cui stava e di cui era profondamente innamorato fondamentalmente stesse con lui soltanto perché era Kanye West solo per il suo status solo per il suo stile di vita e quindi questa mancanza di genuinità nei sentimenti il tema comporta appunto vivere una menzogna e nella coda c'è spazio anche per Chris Rock che interpreta il nuovo fidanzato dando in realtà un tocco anche abbastanza ironico a una canzone che di ironico non ha fondamentalmente nulla è un pezzo profondamente doloroso e profondamente serio arriviamo a Lost in the World c'è l'intro di Justin Vernon ancora una volta protagonista all'interno di questo disco sull'isolamento dalla società ed è esattamente quello che lui mette in atto per difendersi e per ritornare creativo la chiosa del disco viene affidata a una poesia in cui Kanye la dedica alla Kardashian ma in realtà la scrive per la sua precedente fidanzata Kanye prende coscienza della necessità di riuscire ad ammettere la propria natura fallace come appunto cantava prima con il narcisista e la necessità di trovare un supporto in qualcuno che è esattamente quello che gli fa in questo disco lui si avvale di tante persone che gli diano un conforto un parere che gli dicano che la strada è quella giusta e non è tanto per demandare non è per delegare è proprio per trovare una persona che tu ami a cui puoi riconoscere le tue colpe il sample di Gil Scott Aaron che chiuderà poi la parte finale del disco l'ultimo brano Who Will Survive in America e sono parole molto pesanti la società ti spinge a cercare la fama ti ci porta direttamente cioè tu vedi la fama come una una via d'uscita o forse l'unica soluzione in questa esistenza il successo ed è la società stessa che porta le celebrità a vivere in un modo agiato quindi se diventi famoso vieni premiato in un certo senso e la tua vita diventa incredibilmente migliore però è un'illusione perché la vendetta degli stessi è dietro l'angolo la società non ti perdona non vede l'ora di come un cannibale di nutrirsi di quello che ha messo al mondo di quello che ha creato degli stessi idoli che ha aiutato a creare e la domanda che lui si pone è una soltanto is it worth it was it worth it ne vale la pena ne è valsa la pena queste sono le riflessioni conclusive di questo concept non concept forse non dichiarato lui sa bene che non potrà mai essere un normale padre di famiglia che può portare il bambino al parco o semplicemente prendere un volo con la propria famiglia sa che non potrà mai essere un marito normale un cittadino normale perché è il suo status che non glielo consente e non glielo consentirà mai perché avrà sempre fotografi attenzioni morbose luci della ribalta che non gli permetteranno neanche di essere fallace come lui sa di essere e riconosce di essere come qualsiasi altra persona alle altre persone è perdonato alle celebrità non è perdonato perché chiaramente sei sotto la limelight e sotto quella limelight devi essere perfetto altrimenti vieni portato giù trascinato giù con un'anticipazione di quella che sarà la cancel culture che lui tocca genialmente e in maniera anticipatoria proprio su questo disco indipendentemente da quanto nel corso degli anni lui ci abbia messo del suo e abbiamo visto come continui a metterci del suo lui sa perfettamente che il mondo non sarà mai equo nei suoi confronti i suoi sogni di gloria si sono appunto rivelati un bellissimo sogno oscuro e perverso dark and twisted fantasy e Kanye sa che non potrà mai essere salvato chi sopravviverà in America who will survive in America di sicuro non lui questo è un disco gigantesco ve l'ho detto prima è un disco da avere assolutamente da avere è un altro di quei dischi che va oltre il genere è uno di quei dischi che se non copre comprendete appieno il genere vi può aiutare a farvelo comprendere è un disco pieno di tante cose c'è umanità c'è artisticità c'è tanta musica dietro è un disco da avere è uno dei dischi sicuramente più importanti degli ultimi vent'anni e in assoluto della storia del rap che sia il migliore di Kanye non importa parliamo di un artista con uno spessore elevatissimo anche nelle cose meno buone della sua carriera è comunque stato ed è comunque resta comunque un artista molto importante questo è forse il suo autografo più marcato più inciso più affondato nella carta che ha lasciato un disco assolutamente da avere richiedimi la tua recensione su Patreon abbonandoti in Tier 2 per almeno tre mesi metti un like a questo video se ti è piaciuto è importante per la sopravvivenza di questo canale iscriviti al canale tanto sono entrambe operazioni totalmente gratuite seguimi in live dal lunedì al sabato dalle 14 alle 16 sul canale Viola grazie e alla prossima recensione grazie